Buongiorno fratelli e sorelle, come sapete sono Papa Francesco e oggi sono a casa del mio amico Sim per registrare una partita su Rocket League. Come sapete fratelli e sorelle, questo gioco richiede tanta abilità perché è difficile non andare in tilt e vestimiare su questo gioco. Vediamo se la fortuna mi assiste. Benissimo fratelli e sorelle, ho beccato una partita appena iniziata. Vediamo se lo spirito santo sarà com'è. Però attenzione fratelli e sorelle, stavolta non farò il coglione come ho fatto l'altra volta, stavolta cercherò di impegnarmi al massimo. Farò meglio di Messi con la mia argentina. Vamos! Avete finito di spingermi? Oh mio Dio! Ecco perché è un'impresa giocare a questo gioco. Perché ogni due secondi rischi di pregare, per così dire, la Madonna nella sua infinita saggezza di aiutare. L'ha rovesciata come Zlatan, sono un grande. Pregate fratelli e sorelle perché devo fare un gol. Eh, vabbè, come no. Forza. Eccolo lì. Ora voi mi dovete dire che il nome è Alessio Tefoli. E' incredibile. E' incredibile. Fratelli e sorelle, dobbiamo pregare perché questo male venga stirpato dal PSN. Perché uno non si può chiamare Alessio Tefoli. È un nome orrendo. Sarebbe dovuto chiamarsi? Anzi, no, avrete. Scusatemi, fratelli e sorelle. Ma io adesso è argentino. Non parla bene italiano. Quindi, scusate per gli errori. Dovrebbe dovuto chiamarsi Francesco. E invece? E mi dispiace una ciffa, amico mio. Ma io ti perdono. Non temete, fratelli e sorelle. Riusciremo a concludere questo avverbio con vittoria. O forse con sconfitta. Ma in ogni caso, ci saremo divertiti di usare col fratelli e sorelle. Ho segnato. Che la benedizione del Signore sia com'è. E il tiro. Grazie, fratello e sorella. Andiamo a portare a casa questa vittoria. Vamos. Vamos, Argentina. Vamos a ganare il mondiale. Lui mi ha scritto good boy. Amico mio, io devo avere 80 anni. E sei il papa. Quindi abbi rispetto e non chiamarmi good boy. Così chiami il tuo fratello. Figa. Riusciremo a fare questo recupero. Siamo sotto solo di un gol. Dobbiamo vincere per la pace del mondo. Attenzione perché la madonna ci ha assistiti. Guarda che assist. Grazie fratello e sorella. Grazie fratello e sorella. Guardate il passaggio. Grande il passaggio. Fenomeno. Riusciremo a spuntarla fratello e sorella. Vediamo cosa riusciamo a combinare io e questi due ebeti in squadra. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Dammi la grazia mio signore. Per non insultare questa povera anima danata. Come non detto. Mi ha dato la grazia e mi ha dato un gol. Oh mio Dio. Spodify. Non puoi fare casino con le comunità. Forza fratello e sorella. Vediamo cosa riusciamo a fare. Come sapete io a Rocket non ho mai giocato perché non si fanno giocare alla Playstation quando andiamo in preghiera. Fratello e sorelle. Si fanno giocare a Bingo. Si fanno giocare ai Pokemon Go. Ma non alla Playstation. Oh che bel gol. Fratello e sorelle. La benedizione è solo con me. Ok è ripartita la musica. Scusate ragazzi. Ma io sto usando Spotify. in sottofondo. Anche se non me ne frega un cazzo. Siamo a 4 a 2. Ce la riusciremo a fare? Tre gol mi ha io. Un mio compagno di squadra. Ben 340 di ping. Pensate che in Argentina il ping era solo di 1.200. Non mi niente di che dai. 340. Confronto. Diciamo che ho fregato un gol fratello e sorelle. Ma a me non me ne frega un bene amato. Libro. Lui osa imprecare. Nessun problema. C'è bisogno di propulsione. Se notate la chat in alto a sinistra. Questo tizio. Non sa neanche lui cosa si è fumato. Fratello e sorelle. Nel caso. Lo contatterò. Per averne un po'. La partita sembra non finire più fratello e sorelle. Dobbiamo ringraziare la madonna. Per darci tutta questa possibilità. Tutto questo arco di tempo. Perché 5 minuti posso sembrare pochi. Però. Se ci fate caso. Ci sono tanti fratello e sorelle. Ora non so neanche io cosa cazzo sto dicendo. In ogni caso. So che stiamo vincendo. Io ho fatto il bel assist. Mi dispiace fratello e sorelle. La benizione è sempre con me. Del passaggio Cassia. 5 a 3 fratello e sorelle. Il scema dominare. Guardate il liscio del mio compagno di squadra. Di poco scandaloso. Io che metto a fare i dribbling. Mamma mia che gol. Questo è sì che è un gol a stucchio proprio. Ricordate fratello e sorelle. Di combattere il diavolo. E questa nella prova. Con una macchina. E rocket league. Però. Dovete fare attenzione. Perché. Con un niente. Il diavolo si possesserà di voi. Facendo vivere un sacco di bestemmia. Funzione a questo tiro a laser. Inutile fratello e sorelle. Oggi. La fortuna mi assiste. Fatto il dribbling. Proprio come messi. In mezzo a tutti gli avversari. Sei gol fratello e sorelle. Sei gol. E il mio compagno di squadra è principiante. La cosa. È incredibile. Ricordate fratello e sorelle. Di mettere mi piace al video. Per il mio amico sim. Perché io. Il canale del papa non lo posso aprire. Quindi. Dovete per forza mettere mi piace a questo schifo di canale. Per il video su questo schifo di canale. Scusatemi. Ovviamente se volete iscrivetemi. Credo sia tutto per oggi fratello e sorelle. Grazie per aver guardato il video. Ci sentiremo. Alla prossima puntata. Ovviamente. Sono stato un mito. Ora torno alla mia palpa mobile. Adios. E le sorelle. Fregate in pace.